Una visita amichevole in un clima di grande allegria. L'intera compagine del Cosenza Calcio, che sta ancora festeggiando per la conquista della Coppa Italia Lega Pro, si è recata alla provincia di Cosenza. Il presidente Mario Chiuto l'ha ricevuta nel Salone degli Specchi. Ochiuto ha annunciato un progetto ampio che interesserà lo sport cosentino e che prevede la realizzazione di una vera cittadella sportiva nell'area di Via degli Stadi. Noi siamo sempre stati vicini alla società. Intendiamo continuare su questa strada. Il presidente Guarascio ha preso gli impegni sin dal primo momento. Impegni che sta rispettando e lo ringrazio per questo. Devo dire che la società è una società finalmente seria. Ha avuto anche contatti con la Lega. Sono tutti soddisfatti. In questo momento c'è un clima di fiducia enorme intorno a questa squadra, a questa società. È un risultato storico, non solo per la città di Cosenza ma anche per la Calabria. Su questo risultato noi intendiamo costruire anche il futuro. È un futuro fatto di traguardi successivi. È un futuro che riguarderà anche l'assetto fisico delle strutture che noi questa volta vorremmo in essere nella città che abbiamo immaginato che sarà appunto una città dello sport, nella zona del San Vito. Soddisfatto dei risultati raggiunti anche il presidente del Cosenza Calcio che ci tiene a mantenere i piedi ben saldi a terra. È una grande soddisfazione perché avere vinto questa Coppa è un merito di tutti quanti. Dei tifosi, di tutti i ragazzi, di tutta la squadra, dello staff, per noi questo è un punto di partenza. Un punto di partenza che significa andare sempre più avanti. Significa che faremo di tutto per allestire il prossimo anno un campionato e fare un campionato importante. La Serie B non so fra quanto arriverà, però ora pensiamo al prossimo anno come campionato importante.